ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese allora prima di iniziare se come sempre volete partecipare a stazione di un premio scelto da me vi ricordo di mettermi un like e se iscritti al canale lasciami un commentino e se non sapete di cosa parlo guardare la fine del video per capirlo ma adesso iniziamo ed iniziamo subito con queste tisane e le queste della twine x è infuso con le infuso aromatizzato collection questo qui allora vediamo se dice una confezione 5 gusti 100 per naturale privo di caffeina eccola qua sono 20 buste in tutto con 5 sapori diversi e la confezione costa 3 euro 19 e alla copse non sbaglio allora vediamo i gusti perché ottenuto scusate la confezione è questa e poi ottenuto una bustina per ogni gusto scrivendoci sopra come cosa hanno pensato così la posso parlare con voi allora la prima che vi mostro è questa è il lemon twist ok si traducendo la mia scrittura alla veloce dice classico al limone che però si sente bene e gusta bene cosa volevo dire intanto che si è proprio il classico e infuso al limone che però in certi momenti della giornata gusta anche il classico limone e quindi c'è piaciuto e quindi questo lo mettiamo via poi andiamo avanti sarà carta questa dove la buttate questa non è carta è stagnola e stagnola perché non si rompe allora la mettiamo per il vetro poi dopo il secondo finocchio menta e liquirizia che è questo qui ok e si tratta di una tisana che sa tanto di liquirizia è gustosa e ha un retrogusto di finocchio lo si sente per piace si distinguono i sapori è particolare ma a me non dispiace soprattutto è interessante poi la terza che vi mostro è questa frutti rossi eccola qui e credo che sia la più classica di tutte perché effettivamente sa di frutti rossi li ricorda molto è buona da bere e gustosa ma niente di speciale quindi si è quella che è però dovessi scegliere una confezione così solo di frutti rossi ecco questa non la prenderei di sicuro ma andiamo avanti e questo è piena ne ho scordata una piena la metto subito tra quelle da bere questa comunque bella mostra zenzero e limone ok comunque per fortuna che me la ricordo oddio ho perso una bustina fortuna che non le buttate allora sa di limone ma sa anche di zenzero quindi è un sempre un tè a limone una tisana limone però con un retrogusto di zenzero quindi già più particolare rispetto a quella di prima che è la classica lemon twist questa è già più speziata più particolare e mi è piaciuta sicuramente mettiamola da parte questa e per finire eccola qui ciliegia e cannella ecco allora ci fosse una confezione così solo di questa ciliegia cannella probabilmente la prenderei perché sa tantissimo di ciliegia è bella dolce però alla cannella che la rende particolare mi è piaciuta un sacco e adesso io la metto via questi invece vanno come ho detto la stagnola quindi vanno nell'altro vetro e andiamo avanti con il prossimo prodotto che vi voglio mostrare e vi parlo di questo shampoo della bio point questo è diamond crystal shampoo lucentezza diamante anti inquinamento complex semi di lino e olio di cartamo la confezione che avevo io era la militaglia da 100 ml ma comunque sia ho segnato il prezzo e 200 ml viene 16 euro allora intanto ve la mostro ok vediamo se c'è scritto cosa promette estrema lucentezza per i tuoi capelli allora effettivamente sì oltretutto l'inci non è anche troppo malvagio perché non ha siliconi e quindi una cosa interessante e poi è un prodotto che anche se in italia da 100 ml la mia quindi scusate a questo punto chissà che cosa stavo dicendo ma comunque torno alla recensione dunque basta poco prodotto perché a me il 100 ml è durato davvero tanto fa una bella schiuma è bella morbida che però si muove molto molto facilmente lascia i capelli belli e morbidi belli idratati belli corposi e li pulisce bene non secca la cute dopo tranquillamente sono pettinabili e soprattutto si mantiene le promesse e sono davvero più lucidi effettivamente questo effetto l'ho notato quindi promesse mantenute non li appesantisce non li fa sporcare più velocemente e quindi è un buon prodotto assolutamente promosso allora andiamo avanti con il terzo prodotto di questo mese e vi voglio parlare di questo latte corpo ai fiori di ciliegie dice essere latte perle shimmering quindi dovrebbe essere un latte corpo perlato illuminante questo è dell'ossitan io avevo una taglia piccolina quindi il 35 ml e ma comunque segnato il prezzo 75 ml 8 euro e 50 250 ml 24 euro allora bella mostra ok grazie per averlo messo a fuoco grazie mille dunque intanto si tratta di un latte corpo bello fluido ed è bello bello fluido che si stende benissimo perché ho questo ciuffo qua ok che si stende bene sul corpo e si stende bene leggero massaggio non fascia bianca assolve molto velocemente buon potere idratante profumazione dolce ma non mi ricorda i fiori di ciliegio però è davvero dolce dolce ma non stuccosa e però io l'effetto perle perlato oppure illuminante sinceramente non l'ho notato per me è una classica crema per il corpo una classica crema colpo valida ed è però questo effetto per lì non l'ho visto forse dovrei applicarne di più questa era troppo poca però il prodotto in sé la crema mi è piaciuta quindi promosso e ora veniamo a un prodotto che vi devo assolutamente consigliare perché stiamo parlando di queste fiale che è un trattamento per i capelli della cheramine h formula anticaluta brevettata azione d'urto fiale a base di capilarine per capelli con problemi di caduta allora la confezione contiene 12 fialette per 6 ml luna e il prezzo è di 8 euro e 95 battigotà la confezione è questa e cosa dirvi allora io faccio questi trattamenti solitamente due volte all'anno con l'inizio della primavera e con l'inizio dell'autunno ed effettivamente io col fiale della cheramine h senza andare a spendere un patrimonio per dei prodotti professionali trovo che siano valide davvero valide se utilizzate con attenzione allora io intanto ottenuto una fialetta all'interno per mostrarvi che dentro ci sono le fiale poi c'è il tappino per andare a rompere il beccuccio della fiala e dopo c'è anche questo altro beccuccino che va applicato sopra ecco qui così lo potete proprio andare a applicare goccia per goccia solamente sul sul cuoio capelluto come l'applico dunque intanto l'applico dividendo delle sezioni di capelli andando ad applicare poco prodotto nelle varie sezioni e poi massaggiando massaggiare 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 a lungo che fate quanto cade il vetro fate proprio un massaggio profondo davanti dietro bello profondo bello accurato a scusate sui capelli umili dopo averli lavati bel un bel massaggio lungo prolungato che oltretutto di reattiva la circolazione anche del cuoio capelluto e fa penetrare bene il prodotto e in questo modo cosa dire è l'azione del massaggio che comunque reattiva reattiva il microcircolo del cuoio capelluto unito al prodotto che effettivamente è funzionale io ho trovato che nei cambi di stagione quando perdo più capelli del solito questo va a tamponare notevolmente il problema senza andare a prendere integratori per per bocca oppure dei prodotti professionali molto più costosi questo funziona davvero quindi non posso assolutamente dire niente funziona si vede il risultato si vede già da prima applicazione io ne faccio una settimana di queste dopo non mi da problemi ad esempio di come pettinabilità o me lo sporta più velocemente no nessun tipo di problema quindi come sempre solo che ho questo prodotto in più che comunque si asciuga poi col phon fantastico e queste belle straconsiglio perché sono valide funzionano ma non costano un'esagerazione quindi perché andare a spendere di più quando sono dei prodotti davvero validi ecco io penso così e a questo punto di sé che quattro quinto prodotto ed è l'ultimo perché questo video sta diventando davvero lungo e andiamo col quinto e adesso vi voglio parlare di questa crema per il corpo si chiama ultra riche lo scia 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 no vabbè c'è ciao ciao comunque dello sita con il 15 per cento di burro di karite scritta azzurra sul fondo blu allora la confezione che avevo io era piccolina un 30 ml ma ma devo dirvi che ma allora di compresso 75 ml 9 euro 250 ml 25 euro sul loro sito ufficiale prima di tutto questo qui ok allora si tratta di un latte molto ricco ma davvero molto ricco che però basta poco prodotto si stende bellissimo scusate un secondo quando finalmente finirò di ricevere telefonate e vi rimetto in pausa perché a questo punto adesso c'è un messaggio da mio marito vediamo se finalmente riesco a finire questo video a questo punto io ricomincierei da capo con questo perché non mi ricordo più dove sono rimasta comunque sia è un latte corpo davvero ricco non ha fatto vedere non mi ricordo più è un latte corpo davvero ricco come dice latte ultra ricco si è bello ricco ne basta poco ma si stende benissimo non lascia sia bianca è bello morbido si stende bene un bel massaggio bello gustoso ma assorbe molto velocemente e lascia la pelle morbidissima mi è piaciuto tantissimo perché assorbe subito la lascia bella morbida promossissimo allora profumazione è classica al carité ma non non dura tantissimo sulla pelle però è super ricca per l'inverno mi piace tantissimo oppure anche nelle zone più secche della pelle del corpo come ad esempio i gomiti ecco con questa confezione da 30 ml per farvi capire quanto è ricca sto controllando che sia davvero un 30 ml si con questa confezione ho fatto una volta tutto il corpo e una volta solo la parte superiore quindi mi sono fatta una volta e mezzo quindi avete capito che davvero è bella ricca e è piaciuta si anche l'inci stavo leggendo qui a quattro stelline su cinque dal bio inci quindi direi che anche l'inci è valido prodotto straconsigliato e basta io la chiudo qui perché qui tra chiamate e messaggi di mio marito ed è non so che cos'altro magari se passa anche qualcuno e aspettiamo i corrieri basta chiudo il video affinché ci riesco fatemi sapere se siete pronti con questi prodotti come siete trovate e come sempre più è stata utile e al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao